Buongiorno, chi si vede? Arrivi appena appena in tempo, ho fatto appena il letto, stavo mettendolo su, anzi scusa metto su il letto e poi ti faccio vedere il mio quadro. Il letto è su, mettiamo il tavolo e siamo a posto, la giornata incomincia, apro la finestra per prendere un po' d'aria, oggi c'è anche una bella giornata di sole, oh che spettacolo oggi veramente bello bello bello. Ebbene, il soldato della neige è difficile da spiegare perché bisogna la vivere per sapere veramente che lì. Il soldato della neige è un gruppo di uomini, di giovanotti, di seremi, di centoyen, di vetro, ma soprattutto di borsa, di bossolen, perché lì hanno il privilégio in italiano, di fare appunto circa di servizio militare, perché militare non lì hanno, ma davvero è presente tutti i due a seremi per portare lì, accompagnare lì per passare lì. Il soldato è solo il dovere che avevano principale, noi hanno un capo, noi hanno un comandante, e tutti gli altri uomini, di motte, di ronde, di cinzei, di differenze di borsa, gli altri uomini hanno si presentato da un uomini, comunque riparibili, come si diceva in italiano, riparibili può fare il servizio. Normalmente il servizio lo servizio quando avevano il vero, quando avevano l'avanzo, quando avevano il croetano, e allora gli accompagnati, che avevano un viaggio che venivano da Tion, da Milano, da Roma, che avevano passato soprattutto da Roma perché avevano bene il clero di Roma passato normalmente a Seremi per fare la colla. Anche perché avevano un auspice, quindi avevano se presentato all'auspice. Grazie a tutti.